Ancora sempre sulla 48, dalla bici, ecco che si vede, guardate, bombole, bombole a televisori, bombole, ecco, stanno qui da mesi e anni, attenzione, queste bombole me le ricordo, anzi, le avevamo già denunciate, stanno ancora qua, bisogna denunciare estintori, non sono bombole, vabbè, bombole per estintori, ecco, gomme, cerchioni, calcinacci, ecco la discarica della pista ciclabile, purtroppo distrutta, tutta rotta, vabbè, a parte questa è confinata, qui vengono a buttare la spazzatura. Grazie a tutti.